Le minacce di morte sono sostanzialmente quotidiane, proiettili scritte sui muri, manifesti, striscioni, Salvini Mori, Salvini appeso testa in giù, Salvini è piazzato l'Oretto, di tutto, sono abituato, però su di me dite quello che volete, scrivete quello che volete, insultate come volete. Quando ti rimballo i bimbi io mi incazzo come una bestia, quando ti rimballo dei bambini io divento cattivo. E come fa questo giornalista della RAI, pagato da voi, pagato da voi, del servizio pubblico, a scrivere su Facebook che Salvini entro sei mesi si suicida? E vabbè, e vabbè, ma poi che dice poverina sua figlia che avrà bisogno di gente che la recupererà, vergognati schifoso che non sei altro, parlare di bambini di sei anni, vergognati, vergognati. E poi loro sono i democratici, sono orgoglioso di non essere nato così e sono felice di essere diverso. E di rispondere col Vangelo, amate i vostri nemici e fate del bene a chi vi odia. A me queste persone non fanno rabbia, fanno tristezza e pena, umana. Però, ripeto, andiamo avanti.